Come aumentare in maniera veloce la tua massa muscolare? Ti sverro una cosa che non viene mai detta. Oltre che un buon programma di allenamento e un'ottima alimentazione, ciò che permette di aumentare la massa muscolare è la scelta principale di esercizi. Scegliere principalmente esercizi multiarticolari. Esercizi dove in un singolo movimento muovo più di un'articolazione. Questo genere di esercizi permette una risposta ormonale molto maggiore rispetto agli esercizi monoarticolari. Maggiore sarà il numero di muscoli coinvolti nel singolo movimento e maggiore sarà la capacità e la risposta di crescita del mio corpo. Motivo per cui quando vengono fatti questo genere di esercizi all'inizio di un programma di allenamento, si produce una risposta di crescita molto maggiore. Quindi se vuoi aumentare la tua massa muscolare in maniera efficace e veloce, leziona principalmente questo genere di esercizi.